Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul Pensiero Non Lineare per una nuova puntata del podcast In Viaggio con la Psicologia. Sono Giannaro Rinaldi, psicoterapeuta, e vi accompagnerò nella prossima tappa di questo affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. Questo episodio sarà dedicato ad un ambito della psicologia emergente, ma che ha a che fare con qualcosa di molto antico, un fenomeno umano, sociale, che appartiene alla storia dell'umano. Parleremo dell'immigrazione e degli aspetti psicologici ed emotivi che contraddistinguono questa esperienza trasversale, ma profondamente umana. Ma, come per ogni etapa del nostro viaggio, il mio invito è, prima di tutto, quello di rilassarvi. Quindi, mettetevi comodi. Fate un bel respiro profondo, chiudete gli occhi e buon viaggio. Le storie di migrazione sono quasi sempre storie di rinunce, di sofferenze, di perdite, di rottura. Il migrante è alle prese con esperienze più o meno traumatiche, molto personali, singolari, che lo accompagnano per tutto il suo viaggio di allontanamento dalla propria terranatia. Lavoro ormai da circa otto anni nel campo della psicologia della migrazione, a contatto diretto con i vissuti di migranti che arrivano nei centri di accoglienza del mio territorio. E posso dire che, a differenza di ciò che spesso viene raccontato in maniera piuttosto insufficiente e con poca conoscenza, sono pochissimi, ma veramente molto pochi i migranti che arrivano in Europa con la consapevolezza della scelta e della progettazione di una migrazione voluta realmente. Spesso, molto spesso, l'allontanamento dalla propria terranatia non è volontario, o almeno non è una scelta diretta, voluta, meditata, pensata, progettata. La scelta di partire è quasi sempre legata ad un elemento terzo. Per esempio una persona, la famiglia, una condizione personale, uno stato, la povertà, la guerra, la carestia, la paura, la discriminazione, la fame, la malattia, la ricerca di un lavoro. Sono queste cose che determinano la costatazione di una necessità, andar via dal proprio paese. Credo sia molto complesso, proprio per quanto detto, racchiudere l'esperienza personale in una più fredda generalizzazione dell'esperienza. Credo inoltre che una maggiore consapevolezza del vissuto personalissimo, quello emotivo, quello dei migranti, possa favorire e fornire la conoscenza giusta per poter realmente comprendere qualcosa che probabilmente sfugge, se non diviene, almeno attraverso le storie, esperienza condivisa e quindi conoscenza e consapevolezza. Come dicevo in un precedente lavoro, in video e su post che ha a che fare sempre con questo argomento. Quella migratoria è un'esperienza trasformativa e dolorosa per tutti, per tutti quelli che la vivono. Inoltre è un'esperienza trasversale e in un modo o nell'altro caratterizzerà le storie di famiglia e popoli interi, dei racconti trasgenerazionali. L'esperienza del migrante è complessa e dolorosa. È fatta di distacchi improvvisi, di pericolosi viaggi, di esperienze nuove e tragiche, di fame, di sete, di sfruttamento, di traumi e di violenze. È segnata inoltre da diversi passaggi emotivamente molto dolorosi. La partenza con lo stradicamento dalla terra di origine, il viaggio, d'arrivo in una terra nuova e il difficile inserimento nel nuovo contesto sociale. La certezza della permanenza in un luogo sicuro non è sempre certezza del raggiungimento di un benessere personale, fisico e mentale. I ricordi, le esperienze, i vissuti della propria terra, ritornano prepotentemente a rendersi protagonisti nella mente di chi è a migliaia di chilometri dalla propria casa, dalla propria famiglia, dai propri figli, dai propri amici e conoscenti, dai propri lughi, dai propri sapori, dai propri oduri e dalle proprie abitudini. Essere costritti a essere lontani e a non poter decidere di poter tornare a casa per anni è un dramma quotidiano, personale, invisibile, che genera malessere, che si tramuta in un sintomo psicosomatico, in ansia, in attacchi di panico, in episodi depressivi, di dissociazione, in abuso di alcol, fino ad arrivare ad episodi psicotici, nei casi più gravi. Il vissuto di impotenza, dell'impossibilità di autodeterminarsi in un paese straniero è probabilmente il male meno visibile, quello che nessuno considera, il non visto, ma è la peggiore condizione personale di vita, perché ha a che fare con il concetto di libertà personale. È come far rivivere l'esperienza traumatica del non sentirsi liberi, di autodeterminarsi e di scegliere per se stessi per l'ennesima volta nella vita di una persona. Infatti, se volessimo metterci nei panni di uno dei tanti migranti che arrivano sulle nostre coste, probabilmente penseremmo questo. Non ho scelto di vivere in un luogo dove c'è la guerra, non ho scelto di vivere in un luogo povero e deprivato di tutto, non ho scelto io di partire, non ho scelto io di non voler restare nel mio villaggio, non ho scelto io di intraprendere un viaggio pericolosissimo verso la Tunisia o verso la Libia, non ho scelto io di essere sfruttato, di essere picchiato durante il viaggio, non ho scelto io di essere imprigionato senza un motivo vero, non ho scelto io di spendere tutti i miei risparmi, tutti i risparmi della mia famiglia per farmi liberare e farmi arrivare in Europa, non ho scelto io di intraprendere questo viaggio in mare su una barca vecchia e malconcia, stracolma di persone, non ho scelto io di rischiare la mia vita e quella dei miei compagni di viaggio sotto il sole con poca acqua, col mare agitato, col freddo della notte in mare aperto. Oggi vi proporrò la storia di un ragazzo, è una storia di grande resilienza, di perseveranza e di coraggio, la storia è raccontata in prima persona e comincia così. Mi chiamo Madù, vengo dal Gambia, vivevo in Gambia con la mia famiglia, due sorelle, mio padre e mia madre, ma sfortunatamente mio padre è morto quando avevo solo sette anni, quindi ho vissuto con mia madre e le mie due sorelle, ma dalla morte di mio padre le cose sono diventate difficili. Non andavo a scuola e ci sono andato fino a circa nove anni, poi ho dovuto abbandonare la scuola perché mia madre non poteva più permettersi la retta scolastica. Le cose diventavano difficili in campagna, lì non c'era lavoro, niente di niente. Dovevo per forza quindi decidere di andarmene perché dovevo aiutare mia madre e le mie due sorelle. Così decido di lasciare il paese per andare in Europa, per trovare una vita migliore, un lavoro e per magari poter aiutarle. Ci ho messo un giorno per raggiungere del Senegal. In Senegal c'è una vita diversa dal Gambia. Non conosco nessuno lì. Avevo pochi soldi per comprare il cibo per una settimana. Quindi insieme ad altre persone dormivamo in un edificio, un edificio in costruzione. Ogni mattina insieme agli altri ragazzi andavamo fuori per lavorare e per cercare di guadagnare qualcosa. I soldi necessari alla tassa di trasporto per arrivare in male e ci sono volute due settimane per completare l'importo e per poter sopravvivere. Un giorno quindi ci siamo svegliati e siamo andati in male. Abbiamo trascorso lì un mese dormendo per strada. La mattina andavamo a lavorare in un cantiere e tutti i giorni per un mese abbiamo lavorato. Poi raggiunta la quota per la tassa di trasporto per raggiungere il Burkina Faso sono andato lì dove sono rimasto per due settimane. In Burkina non era semplice quindi appena ho potuto ho preso un mezzo di trasporto per arrivare in Niger. Non è stato facile vivere e sopravvivere in questi mesi, nei mesi che ho passato prima di arrivare in Niger. Ero molto stanco e con me anche gli altri che ho incontrato durante il mio viaggio. Il Niger non è stato purtroppo per nulla semplice e ci sono voluti due mesi di duro lavoro per raccogliere i soldi necessari per sopravvivere tutti i giorni e mangiare e poi per arrivare in Libia. Con me c'era il mio compagno di viaggio, quello con cui sono stato per gran parte del viaggio. Però purtroppo ci siamo dovuti separare perché lui aveva i soldi necessari per andare oltre, ma io non li avevo. E purtroppo lui è andato via e io sono rimasto solo. Libia quindi è iniziato un vero e proprio incubo. Ho dovuto dormire da solo in un edificio abbandonato. La mattina, dopo qualche giorno di buon mattino, sono uscito per cercare un lavoro. E così per qualche giorno ho fatto così. Poi, come sempre, una mattina mi sveglio per andare a trovare lavoro e purtroppo incontro delle persone. Queste persone mi hanno fermato e con la forza mi hanno rapito. Mi hanno portato in una prigione senza motivo. Sono stato lì per, penso, due settimane. Ci hanno dato da mangiare e da bere. Una volta al giorno, per i primi giorni però, per i primi 3-4 giorni, poi hanno iniziato a non portarci più niente. Né cibo né acqua. Ci minacciavano e ci picchiavano. Alcune persone, credo, siano morte. Poi dopo forse due settimane, non ricordo bene. Decidiamo di scappare. Insieme con gli altri prigionieri, decidiamo di farlo di notte. Ci mettiamo d'accordo. Ci sono stati infatti degli scontri con le tre guardie che erano lì la notte. Però siamo riusciti a scappare. Quasi tutti, credo. E ci siamo divisi. Ci siamo persi di vista. Ognuno è andato per il proprio conto. Così abbiamo pensato, perché era più facile non farci più riprendere. Durante la fuga e la lotta però sono rimasto ferito allo stomaco. Poi pian piano la ferita è guarita. Sono arrivato forse stesso quella notte o dopo un po' su una spiaggia e sono rimasto lì. in quella zona, su quelle spiagge, per circa otto mesi. Dormivo in un edificio incompiuto perché non ci lavoravano lì. Stavo al freddo. Solo il tetto era coperto. C'erano anche altre persone. E durante il giorno provavo ad uscire. Perché dovevo guadagnare qualcosa per mangiare. Si erano robati tutti i soldi quando ero stato in prigione. Ero decisamente in cattive condizioni. Ma dovevo sopravvivere. Perché sapevo che un giorno potevo partire e prendere una barca per fuggire da lì. Uscire però era molto pericoloso. Perché in quella zona della Libia molta gente gira con le armi. Ci sono gruppi di giovani con le auto che spesso quando vedono noi immigrati sparano. Ho visto durante quei mesi anche cadaveri per strada. Persone morte di fame o uccise dalle armi. Ma grazie a Dio sono riuscito a trovare una persona che mi ha fatto lavorare durante quei mesi. E che mi pagava quanto bastava per raccogliere finalmente i soldi per pagare il mio viaggio. Così una notte, intorno alle quattro, ho preso finalmente una barca insieme a tante altre persone. E ho iniziato il mio viaggio verso l'Italia. Abbiamo trascorso più di 15 ore in mare, col mare agitato, senza cibo e senza acqua. Poi, finalmente, verso le 5 del pomeriggio, una nave ci ha soccorso. Eravamo felici di vedere quella nave. Loro sono venuti, ci hanno fatto calmare e ci hanno detto di aspettare per salire a bordo. Lo ricordo ancora. La nostra barca, però, non era messa molto bene. Ci hanno portato a Lampedusa, il mattino dopo. E poi in un luogo, con tanti altri migranti. Ma avevamo finalmente acqua e cibo. Potevamo lavarci, avere degli abiti puliti e asciutti. E soprattutto ci hanno dato la possibilità di poter chiamare le nostre famiglie. Mi sono sentito molto felice, perché finalmente mi sentivo al sicuro. Ho passato due settimane col centro a Lampedusa. Poi sono stato trasferito, fino a quando non sono arrivato a Napoli. Sono stato bene qui. Ho passato quasi 5 anni. Poi c'è stata la pandemia. Durante questi anni. Ma prima avevo trovato un lavoro. Dove ho incontrato persone che mi vogliono bene. Era da poco iniziata la pandemia. Ma ero troppo stanco. Non mi sentivo molto bene. Avevo troppo dolore. Così sono andato in ospedale. Sono stato un mese. Mi hanno fatto le analisi. Mi hanno scansionato il corpo. Avevo un problema ai rini. Un problema grave, mi hanno detto. Mi hanno detto che rischiavo di morire. Sono stato in ospedale per sei mesi. E quasi due mesi sono stato costretto a essere sdraiato a letto, perché non potevo muovermi. Mi hanno detto che ho quasi perso le gambe. Ero in isolamento. E ho perso moltissimo peso. Ero solo, spaventato e triste. Ma ho conosciuto tanti operatori dell'ospedale in quelle settimane che mi hanno fatto compagnia. E sono grato a loro. Si sono presi cura di me durante quei mesi. E mi hanno salvato la vita. Adesso sono qui, finalmente, a parlarne. E sono tornato alla vita. Mi sento ancora stanco. Non sono ancora guarito del tutto. Ma posso camminare. E sono felice per questo. Diceva Nelson Mandela. Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo. La sofferenza. La solitudine. E la frustrazione. Bene. Anche per oggi la nostra tappa finisce qui. E non mi resta che salutarvi. Ed invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie ancora per l'ascolto. Alla prossima.